Pada, qui Spada 2, vi comunichiamo il raggiungimento del punto di sbarco, avanziamo verso il primo segnale, ricevuto? Pada 2, qui Spada, forte e chiaro, procedete verso l'entroterra ed evitate il contatto, i vostri bersagli sono le difese costiere cinesi, ricevuto, passo. Spada, qui Spada 2, tutto chiaro, passo. Spada 2, qui Spada, i droni ricognitori collocano il vostro bersaglio primario a circa mezzo chilometro a est della vostra posizione, nei pressi dell'accampamento cinese. Se il bersaglio non sarà eliminato, la flotta sarà a portata dei missili Sunburn. Capone in persona sta osservando, chiudo. Spada, qui Spada 2, tutto forte e chiaro, stiamo per muoverci, chiudo. Seguimi, vai verso... 0, 1, seguimi. Spada 2, qui Spada, attenzione un convoglio cinese sta entrando nella vostra zona operativa, è importante che evitiate il contatto, chiudo. Sento dei trasporti, sembra il rumore di un convoglio. Stato dei trasporti, sembra, attenzione un guIDito. Spada, attenzione un avessore un occhio. So, il segno di una volta che sono manifestata, chiudo spada, chiuderebbe la gara sul spigliare. Spada, attenzione un avessore un sogno di Venus. Spada, attenzione un accesso di potente. Spada, attenzione un tiambi, altissima, spada, attenzione un Ameriata. Spada, attenzione, Grazie a tutti. Fermati qua. Posizione, nemici in vista. Cigliere, duecento metri sud. All'attacco! Cigliere, duecento metri sud. Cigliere, duecento metri sud-ovest. Cigliere, duecento metri sud. 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 Spada, qui, spada due. Ricevuto. Procediamo verso la postazione di supporto. Spada due, chiudo. Mi stanno cercando. Spada duecento metri sud-ovest. Oh, merda! Fuciliere, duecento metri sud. Fuciliere, duecento metri sud. Elicottero da trasporto. Elicottero da trasporto, cinquecento metri sud-est. Fuciliere, duecento metri sud. Fuciliere, duecento metri sud. Elicottero da trasporto. Trecento metri sud. Ricarico! Fuciliere, duecento metri sud. Ricarico! Contatto! Fuciliere, cinquanta metri sud. Fuciliere, duecento metri sud. Ricarico! Versaglio! Fuciliere, eliminato! Fuciliere, duecento metri sud. Fuciliere, duecento metri sud. Fuciliere, duecento metri sud. Fuciliere, duecento metri sud-ovest. Non possiamo sbagliare. Il colonnello Masters sta seguendo la missione. La flotta è in viaggio e questo significa che abbiamo una finestra temporale ridotta entro cui eliminare i missili antinave cinesi. Successivamente ci sposteremo nell'entroterra ed elimineremo il radar che collega le loro postazioni terra-aria, aprendo la strada ai cobra. Tutto chiaro? Muoviamoci!